Se non parla di disattivare la telecamera, il microfono lo posso disattivare io, quindi non c'è problema, però se lo disattivate è meglio. La volta scorsa, quando c'era Daniela, ci sono state scene abbastanza divertenti, perché per ora dovremmo aver trovato il modo di impedirle alla radice, quindi almeno quel problema non si presenterà. Ci sono i piani che intervengono per boicottare la discussione? No, quello di persone che non sanno di essere presenti in video, mentre sono visibili al mondo e quindi fungono da involontari distrattori. Quindi partiamo senz'altro, Stefano Vicentin, penso lo conosciamo tutti, ma comunque se qualcuno non lo conoscesse, ricordiamo innanzitutto il suo libro fondamentale sulla libertà necessaria, e poi sui molti interessi non solo spinoziani e non solo modernisti, perché ha lavorato molto anche su Machiavelli, oltre su Spinoza, ma ha anche un versante di ricerca che spazia fra Marx e la ragione populista contemporanea. Per cui però oggi lo ascoltiamo parlare di profezie, immaginazione e comunità nel TTP di Spinoza, e gli cedo senz'altro la parola cercando io stesso di svanire. Ecco qua, grazie. Grazie a te Francesco, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io cercherò di, appunto riprendendo i lemmi del titolo, di restare abbastanza aderente, almeno nella prima parte, al testo, in particolar modo i primi due capitoli del Trattato Teologico-Politico, che, come è noto, trattano del trema della profezia dei profeti, e in una seconda parte di, in qualche modo, presentarvi un po' una riflessione che ho sviluppato nel corso degli ultimi vent'anni, anzi, che risale ancora al dottorato, su cui ogni tanto ritorno, che riguarda il rapporto tra Spinoza e alcune sette olandesi, o alcune sette cristiane che vivevano sul territorio olandese, in particolar modo, una sette molto peculiare, che è la sette dei collegianti, con la quale, o dalla quale, a mio modo di leggere, non sono l'unico ovviamente che la pensa così, però, insomma, Spinoza ha tratto alcune importanti e interessanti spunti di riflessione. Allora, come dicevo, i primi due capitoli del Trattato Teologico-Politico, il Trattato Teologico-Politico inizia di fatto dedicandosi e concentrandosi sul tema della profezia dei profeti. Perché comincia con questo tema? La ragione, probabilmente, di questa scelta la si trova nella prefazione, dove Spinoza espone quelle che, a suo modo di vedere, sono le pericolose conseguenze che possono svilupparsi sul piano politico dal fatto che i teologi rivendichino una ispirazione profetica, appunto. Perché attraverso questa rivendicazione, ci dice Spinoza, vi è il rischio che la religione, la vera religione, a cui Spinoza dà una importanza rilevante nel corso di tutto quanto lo scritto, si trasformi invece in un uso strumentale della superstizione e nella creazione quindi di un apparato, di un dispositivo teologico-politico che assoggetta gli individui. In particolar modo, Spinoza si concentra sul rischio che la Chiesa, usa proprio questa terminologia, si trasformi in un teatro. Cioè che dal luogo di formazione e di costruzione del sentimento religioso, che in primo luogo è pietas, dice Spinoza, invece, diventi appunto una sorta di messa in scena per sollecitare, per suscitare nei fedeli ammirazione e stupore e attraverso questa rappresentazione per, appunto, come dicevo prima, assoggettarli ad un potere percepito come trascendente e quindi come fondamentalmente irresistibile. Ecco, quindi il pericolo che i profeti costituiscono un sostegno ideologico, potremmo dire, al motore monarchico, è quindi presente fin da subito nella riflessione di Spinoza. Cioè l'idea che il profeta, attraverso il suo ruolo di oratore, sia in grado di sfruttare quella naturale ambivalenza di cui Spinoza parla fin dalle prime righe del tradotto teologico-politico proprio a degli affetti umani, per far sì che gli uomini, cito ancora dalla prefazione, una frase molto nota e su cui hanno riflettuto molti da Deleuze in poi, combattano gli uomini, combattano per la propria schiavitù come se combattessero per la propria salvezza, no? Ecco, ovviamente Spinoza, essendo dato il carattere pamflettistico, mi verrebbe da dire, nonostante le dimensioni del tradotto teologico-politico, ha ben chiaro, ha ben in mente qual è la concretezza del pericolo, no? Cioè il fatto che esista nell'Olanda della seconda metà del Seicento, quella in cui appunto Spinoza vive, esista una alleanza tra il clero calvinista ortodosso e il casato degli orange, che mira, che ha progetto di trasformare la Repubblica dei Paesi Baschi settentrionali in una monarchia, non in una monarchia assoluta, ma comunque una monarchia in cui il controllo monopolistico della fede sia un pilastro fondamentale, no? Per questo, ovviamente, nel tradotto teologico-politico, Spinoza si schiera più o meno esplicitamente con quelle forze politiche, in primo luogo il partito della vera libertà di Johan de Witt, che invece sostengono la libertà di coscienza e sul piano politico appunto una sorta di federalismo tra i diversi stati appunto di questa Repubblica. Certamente nel trattare, nell'affrontare il tema della profezia vi è anche un'altra questione, vi è anche un altro interesse spinoziano, che è quello di confrontarsi con i principi della sua antica fede, della fede ebraica, no? Maimonide di fatti viene spesso citato proprio come, come diciamo, referente teorico, ma anche, potremmo dire, anche pratico, no? Per cui, però io mi concentrerò soprattutto sull'aspetto più appunto, lasciando quindi da parte, pur sapendo che esiste evidentemente, però lasciando da parte questo cote polemico nei confronti dell'ebraismo, mi concentrerò soprattutto invece appunto sull'aspetto politico, se vogliamo, come dice il titolo, teologico-politico, delle ragioni teologiche-politiche di questi primi capitoli. Io credo che appunto in questi primi capitoli l'interesse principale di spinoziano sia quello di mostrare che la profezia e i profeti possono svolgere, e hanno svolto di fatto nella storia, un ruolo differente rispetto a quello appunto di cui la prefazione individua il rischio, no? Cioè quello di un sostegno ideologico al potere teocratico dei re. Come comincia? Spinoza comincia ovviamente, come è noto, dalla definizione del profeta classica come interprete di Dio, ma subito dopo passa a analizzare, a discutere la relazione esistenza tra conoscenza profetica e conoscenza naturale. E di fatto, con una mossa chiaramente sovversiva rispetto alla tradizione tanto ebraica quanto cristiana e calvinista in particolare, riconduce la seconda, cioè la conoscenza profetica, ad una forma di conoscenza naturale, cito proprio dal primo capitolo. La conoscenza naturale può definirsi profezia dal momento che dipende dalla sola conoscenza di Dio e dai suoi eterni decreti. Sembrerebbe allora che ogni uomo, per certi versi, in quanto appunto possessore, almeno potenzialmente, di una capacità di conoscenza naturale, anzi non potenzialmente, Spinoza dice proprio che la conoscenza naturale è comune a tutti gli uomini, possa anche essere ritenuto profeta, per certi versi. Spinoza però nega questo, nega questo perché, ancora cito, sebbene la scienza naturale sia divina, i suoi divulgatori non possono dirsi profeti. Cioè non tutti coloro che hanno una conoscenza naturale sono profeti. Qual è la differenza tra appunto chi possiede una conoscenza naturale, cioè la grandissima parte degli uomini, se non la totalità, seppure a gradi diversi, e chi invece possiede una conoscenza profetica? Beh, il fatto che fondamentalmente i profeti comunicano questa loro sapere, che ripeto comunque è pienamente naturale, cioè non ha niente di trascendenza o di miracoloso, con modalità insolite, con modalità che vengono percepite come esoteriche e per questo sono tenuti in maggior considerazione dal volgo. Cioè sono capaci di appunto operare una sorta di, hanno una forza di convincimento nei confronti soprattutto delle persone potremmo dire di scarsa, che non hanno una conoscenza approfondita delle leggi divine, eccetera, perché fondamentalmente intervengono su un aspetto che è della natura umana che in qualche modo appartiene a tutti e che ha un fortissimo potere sulle nostre azioni, cioè la dimensione immaginativa. Vediamo in che senso ecco questo collegamento, questo strettissimo legame tra la profezia e l'immaginazione e operi, secondo Spinoza. Facciamo un percorso un attimo articolato. Allora, primo luogo, che cosa insegnano i veri profeti? Già ancora nella prefazione, quindi proprio nelle primissime pagine, Spinoza dichiara che i veri profeti, cito proprio, non hanno insegnato che nozioni semplicissime che potevano essere percepite facilmente da chiunque, per cui soprattutto l'animo della moltitudine potesse essere indotto alla devozione verso Dio. E qui già vediamo che c'è una contraposizione tra l'insegnamento di questi veri profeti e quello distorto dei profeti oratori, dei profeti teologi, che invece appunto utilizzano la loro capacità rappresentativa, la loro capacità teatrale, scenica, per ingannare il popolo, o per distorgere il vero messaggio. Perché la conoscenza che i veri profeti comunicano può essere percepita facilmente da tutti? Ma fondamentalmente perché, ci dice Spinoza, il sapere, la verità contenuta nella parola rilevata di Dio consiste, qui siamo a una citazione dal primo libro, nel semplice concetto del pensiero divino rivelato ai profeti, cioè consiste nell'obbedire a Dio con animo puro e nel coltivare la giustizia e la carità. Quindi non c'è nessun, come dire, sapere particolarmente complesso, non c'è nessuna conoscenza sofisticata che faccia da contenuto del messaggio rivelato. La parola rivelata ha un messaggio eminentemente pratico, non riguarda verità di carattere speculativo, ma riguarda appunto verità etiche, la giustizia e l'amore, appunto, o la pietas anche, no? E questo è appunto, quindi, nella misura in cui incide sul comportamento, sull'agire, sulla dimensione anche affettiva degli individui, non richiede una particolare competenza, una particolare, come dire, sviluppo intellettuale per essere compreso. Come insegnano i veri profeti? Come comunicano questa verità etica? La comunicano, appunto, dice ancora Spinoza, attraverso parole o figure. Ecco, e entra appunto, quindi, in gioco, come dicevamo prima, l'immaginazione come medium comunicativo della rivelazione profetica. Appunto, la rivelazione divina, dice ancora Spinoza, proveniva i profeti, scusate, attraverso la loro capacità immaginativa, mediante parole o immagini, vere o immaginarie, e ancora attraverso parabole ed enigmi che sono più consone alla natura dell'immaginazione. che è vaga e incostante. In questo senso, quindi, i profeti si distinguono dagli altri individui, non per una conoscenza scientifica o razionale più approfondita, ma esattamente per questa potenza più vivida, più forte di immaginare. Cioè, per la capacità, attraverso il loro linguaggio, di produrre immagini capaci di rimanere impresse più intensamente nella mente degli altri. E per questo, appunto, per questa potenzia vividius immaginandi, che fa presa sugli uomini, essi hanno un potere di convincimento che è spesso superiore alla conoscenza intellettiva. Quindi, per Spinoza i profeti non sono filosofi, diversamente da quello che pensava Maimonide, qui c'è proprio una polemica molto esplicita, perché, appunto, la profezia non li rende più dotti, ma, appunto, sono semplicemente essi, appunto, più adatti a questa modalità di rivelazione. E segue, e queste modalità di rivelazione che i profeti, di cui i profeti dispongono, segue molto di più il loro diverso temperamento corporeo, non vuoi sapere, l'immaginazione è legata alla struttura, alla natura, alla potenza del corpo, più che a quella della mente, o comunque ad entrambi gli aspetti, e che non, appunto, ad una capacità raziocinante più sviluppata. Terzo punto, come si riconoscono i veri profeti, distinguendoli quindi dagli impostori, dai falsi profeti al servizio del potere ziocratico? Questo è un punto, secondo me, fondamentale, che non sempre è stato evidenziato. Cioè il fatto che, certo, i profeti dispongono di questa potenza immaginativa superiore, di questa immaginazione più vivida, più forte, più creativa rispetto agli altri esseri umani. Ma per essere effettivamente riconosciuti come veri profeti, devono anche manifestare altre due caratteristiche. Il fatto che vi sia un qualche segno divino o miracoloso che in qualche modo li identifica, ma soprattutto, e le due cose in realtà spesso sono legate, il fatto, dice Spinoza, che Dio, vi cito proprio, si serve degli uomini pi come strumenti della sua pietà e quindi che la comunità a cui il profeta si rivolge riconosce in lui il fatto di avere un animo incline alla giustizia e al bene. Quindi è necessario per un profeta che voglia essere riconosciuto come tale e che voglia, appunto, come dicevamo prima, incidere sul comportamento degli individui, che gli individui che lo ascoltano, che il popolo a cui si rivolge ne riconosca delle qualità etiche superiori. Non solo l'immaginazione, ma evidentemente anche una, appunto, una eticità, un carattere che in qualche modo spicca per la sua qualità. Ecco, io credo che attraverso il riferimento a questa dimensione etica condivisa, appunto, socializzata, Spinoza, come dire, dia alla rivelazione profetica un carattere radicalmente immanente, no? Quindi, di fatto, come dire, cancelli, metta da parte qualsiasi riferimento alla trascendenza, alla opzione, potremmo dire, profetica come capacità di relazionarsi ad una dimensione altra, e invece descriva il profeta e la facoltà di cui dispone come una sorta di capacità di catalizzazione, per usare un termine clinico, come catalizzatore di una forza immaginativa che circola all'interno della comunità, come lo strumento attraverso quale il popolo, nel popolo ebraico in questo senso, ma in realtà ogni popolo, perché Spinoza insiste nel dire che tutte le nazioni ebero degli ebrei, giunge a rendere presente a se stesso, per così dire, seppure attraverso la dimensione dell'immaginazione, quindi in maniera parzialmente confusa, i fondamenti etico-politici della società. Il profeta quindi appunto funziona come strumento di emergenza, di rappresentazione vivida di fronte agli occhi di tutti, di qualcosa che in realtà è prodotta dalla comunità stessa nella quale il profeta opera e agisce. Questo significa che, appunto, a differenza del profeta oratore, del profeta teolico, del profeta alleato del sovrano, il vero profeta di cui Spinoza parla in questi due capitoli, svolge principalmente un ruolo di critica di qualsiasi ideologia fondata sulla superstizione e via al tempo stesso una concretezza che in certi aspetti potremmo anche definire perfino istituzionale. Il caso di Mosè è evidente, il più grande dei profeti ebraici, che è anche un grande legislatore e quindi in qualche modo capace di leggere, di interpretare attraverso una conoscenza dell'affettività umana, ma anche una comunicazione costante con il corpo vivo, potremmo dire, della collettività, quali leggi siano più adeguate affinché appunto questa comunità si governi. E ancora di più, ancora di più, la profezia nei momenti critici può funzionare anche come una sorta di contropotere nei confronti di quei governanti che abusano della loro autorità. Come ricordo il capitolo 17, infatti, i re del popolo ebraico, dice Spinoza, nutrivano costantemente un timore verso un qualche nuovo profeta, perché tali profeti, dice ancora Spinoza, potevano facilmente tirare dalla propria parte il popolo oppresso. Ecco, quindi appunto Spinoza esalta, mi verrebbe da dire, la dimensione costituente della profezia, il carattere di un discorso pronunciato più che davanti al popolo, in mezzo al popolo, mi verrebbe da dire, quindi su un piano di radicale immanenza. Ecco, arriviamo però a un certo punto in cui Spinoza ci segnala che con la nascita e la predicazione di Cristo, e quindi con l'espandersi della religione cristiana, la profezia scompagna. Spinoza afferma chiaramente che Cristo non è un profeta, perché non comunica con Dio per via immaginativa, ma facendo riferimento alle nozioni comuni e vere, cioè allo strumento della ragione, no? E tuttavia, anche qui, Spinoza non nega, sono al capitolo quinto in particolare sulle leggi, Spinoza non nega che Cristo, quando però, se parla con Dio, diciamo su un piano potremmo dire filosofico, della pura razionalità, quando però si rivolge invece agli uomini, è costretto ad adattare all'ingegno popoli, all'indole del popolo, all'indole dei suoi ascoltatori, il suo messaggio. Quindi anche lui usa parabole e usa un linguaggio equivoco proprio perché è estretamente legato alla dimensione immaginativa. Quindi potremmo dire che la comunicazione di Cristo, probabilmente Giuseppe insisterà di più su questo, io cerco di andare veloce, procede secondo un doppio livello. Da un lato quella della comunicazione razionale con Dio o con chi è in grado di intenderla, come nel caso di Paolo, no? Paolo di Tarso. E dall'altro quella di una comunicazione invece più ambigua, più ambivalente, più ibridizzata, per passare in termini, dalla dimensione immaginativa con gli uomini carnali, no? Resta il fatto che appunto l'insegnamento di Cristo segnala il superamento del profetismo tradizionale. Oltre a ciò, dice Spinoza, c'è un'ispiegazione più propriamente storica della scomparsa dei profeti, di cui Spinoza facendo nel diciassettesimo capitolo, dove dice, c'è la famosa frase, Spinoza dice, la natura non crea nazioni, bessi individui, no? In che senso? Nel senso che le nazioni sono costruzioni storiche, la cui genesi e anche la cui evoluzione è determinata da una mutazione delle leggi, dei costumi sociali, dei rapporti di produzione, un termine chiaramente più moderno, e quindi Spinoza scrive che lo stato degli ebrei non potrà mai essere imitato, non potrà mai risorgere in epoca moderna, qui una critica tutt'altro che implicita alla filia veterotestamentaria dei calvinisti, l'idea di ricreare la Gerusalemme, tipica appunto di un certo discorso calvinista, perché? Perché creare uno stato come quello ebraico, le cui istituzioni tendevano a isolare appunto il popolo dal resto del mondo, non può, dice Spinoza, tornare vantaggioso a quanti hanno bisogno di commercio con gli altri, quindi a rafforzare la rottura, la cesura prodotta del cristianesimo via la trasformazione materiale della società europea e di quello olandese in particolare, fondata sul prevalere di un'economia mercantile, che trae sicuramente maggiore vantaggio dalla tolleranza degli usi dei costumi degli altri popoli e compatibilmente che si sviluppa con il prevalere di un carattere universalistico della religione cristiana rispetto a quello nazionalistico della fede mosaica. Quindi sembrerebbe che nel momento in cui Spinoza affronta la contemporaneità, affronta l'analisi della società in cui vive, la profezia non abbia più alcun ruolo da svolgere, se non quello negativo appunto dei profeti calvinisti contro i quali appunto Spinoza di fatto scrive il tratto teologico politico, quasi accusandoli di essere fuori tempo massimo, di non comprendere dove va la storia, di essere veramente arroccati alla difesa di un mondo che non esiste più. Però, 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 però se leggiamo con più attenzione il testo spinoziano, questa cesura, questo spartiacque tra l'età del Cristo e l'età dei profeti non è così netta. E anzi, compaiono degli elementi di, mi vorrebbe dire, problematica continuità, che appunto complicano il quadro. Qual è il principale elemento di continuità? Il fatto che è in qualche modo il segno che in realtà la profezia in qualche modo sopravvive anche nel cristianesimo, non solo come inganno, non solo come strumento di dominio. Beh, il ruolo degli apostoli. Il ruolo degli apostoli di cui tratta il capitolo undicesimo inizia con una frase che sembra sovvertire esattamente quello che ha detto Spinoza nei capitoli precedenti. Nessun lettore del Nuovo Testamento, dice Spinoza, può dubitare che gli apostoli fossero dei profeti. Ecco qui, di nuovo, quindi, la dimensione profetica che riemerge appunto nella figura non tanto del Cristo, ma appunto degli apostoli, dei suoi seguaci, di coloro che si erano assunti il compito di spargere nel mondo e di comunicare al mondo, ai gentili, il messaggio cristiano. Però la profezia apostolica introduce di fatto una profonda differenza, estremamente interessante, vedremo perché, rispetto alla profezia ebraica. Perché? Perché potremmo dire che rispetto ai profeti dell'ebraismo, che in qualche modo, pur come dicevo prima, esprimendosi su un piano puramente immaginario e in qualche modo concentrandosi quasi esclusivamente sul messaggio di carattere etico e politico più che su una, appunto, riflessione teoretica o filosofica delle verità eterne, beh, i profeti erano di fatto convinti di aver ricevuto da Dio il messaggio che traducevano agli uomini. Cioè loro stessi erano convinti, autosuggestionati, potremmo dire, per così dire, dalla loro stessa immaginazione. Cosa fanno gli apostoli? Invece gli apostoli, dice Spinoza, non parlavano per ordine di Dio, ma esprimevano piuttosto un loro personale punto di vista. In moltissimi luoghi si incontrano espressioni proprie, dice Spinoza, di un animo circospetto e perplesso. Io ritengo, riteniamo quindi, eccetera. Quindi espressioni che sono, dice ancora Spinoza, ben lontane dall'autorità profetica. È come se la predicazione apostolica in qualche modo fosse più consapevole della predicazione dei profeti ebraici del fatto che in qualche modo il messaggio che viene comunicato, proprio perdendo il suo carattere assertivo, il suo carattere autoritativo, sia un messaggio prettamente, profondamente umano. Cioè, sia un messaggio che proviene appunto, immanente, che proviene dall'umanità stessa di questi apostoli e quindi anche attraverso la loro capacità di argomentare e di discutere, per così dire, che provenga dal corpo della collettività. No? Gli apostoli argomentano sempre, dice Spinoza, razionalmente, tanto che non sembrano profetare quanto discutere, no? Qui argomentare razionalmente è raziocinantur, no? Il verbo raziocinari non è che indichi il piano della conoscenza razionale raggiunta, ma proprio quello della disposizione alla discussione. Quindi un atteggiamento meno autoritario e più aperto al confronto, no? Gli apostoli sono effettivamente consapevoli che la profezia, se mi passate termine, emerge dal popolo, emerge dalla, come dire, dall'intrecciarsi dell'immaginazione dell'affettività della moltitudine. Ora, è evidente quindi che anche dopo la rottura di Cristo, quindi anche nella storia del cristianesimo, in qualche modo permanga una concezione, una pratica della profezia che Spinoza in qualche modo intende positivamente, cioè non come appunto inganno, non come costruzione di un dispositivo teologico-politico volto all'assoggettamento dei popoli, ma come appunto comunicazione e rapportamento delle qualità etiche e politiche di una comunità. Ma dopo i profeti, dopo i profeti, dove si trova? Cioè, esiste, meglio ancora, secondo Spinoza, nella sua epoca, nell'Olanda della sua epoca, un esempio di questa funzione profetico-apostolica, di una continuità, perché abbiamo visto che la figura del profeta oratore, del profeta teologo è chiaramente identificata con quei predicatori calvinisti che, come dicevamo prima, sostengono il principe d'orange e attaccano gli stati generali, attaccano la costituzione repubblicana dei Paesi Bassi, soprattutto per quel che riguarda la tolleranza che essa concede alle diverse fedi. Ma il profeta apostolo, per così dire, il profeta che in qualche modo eredita dai profeti ebraici, invece questa capacità di parlare in mezzo al popolo, non davanti al popolo, di far emergere, di catalizzare la forza immaginativa, etico-immaginativa del popolo. Dov'è? Io credo che Spinoza avesse un'esperienza, che è chiaramente limitata, ma significativa, di questo modo di profetizzare, proprio attraverso le conoscenze che egli aveva, grazie soprattutto a alcuni suoi amici, a Rigieles soprattutto e a Peter Baling, dell'esperienza religiosa della sette dei collegianti. Chi sono i collegianti? Il movimento collegiante nasce nel 1619 a Warmond, una piccola cittadina dell'Olanda, per iniziativa di, vi dico dei nomi ma è inutile che li scriviamo, però insomma, tal Geisbert van der Kode e dei suoi fratelli, che sono, che erano dei calvinisti arminiani. Lo sapete, però nel primo ventennio del Seicento l'Olanda è attraversata da una disputa molto violenta all'interno del calvinismo tra arminiani o rimostranti e dall'altro i controrimostranti. Gli arminiani erano, per così dire, i calvinisti, passatemi il termine assolutamente non modernizzante, erano dei calvinisti liberali, che avevano una maggiore apertura nei confronti della teoria della predestinazione, avevano un atteggiamento, potremmo dire, usando una terminologia non adeguata, più liberale, mentre i controrimostranti avevano invece un atteggiamento più ortodosso, più, come dire, fortemente, più legato al calvinismo tradizionale. Nel 1618-19 si apre un sinodo, il sinodo di Dordrecht, dove i calvinisti più intransigenti, appunto, i controrimostranti vincono, questo poi avrà anche delle conseguenze sul piano politico, ma lasciamo stare, e tutti i predicatori, tutti i pastori invece più legati all'altra corrente, alla corrente liberale, gli arminiani, vengono deposti, sostituiti da pastori più fedeli all'ortodossia. Ecco, a Warmond, quindi c'era un pastore arminiano che viene cacciato e nell'interregno, per così dire, tra il momento in cui doveva arrivare il nuovo pastore e l'assenza, Van der Kodde propone alla comunità dei fedeli di organizzarsi da soli e quindi, in assenza di un predicatore, in assenza di un pastore, di mettersi insieme, organizzare le messe, potremmo dire, le celebrazioni, leggendo insieme il testo e discutendolo insieme, quindi senza un'autorità che lo spieghi agli altri. Una sorta di organizzare dei seminari, potremmo dire, attraverso di lettura del testo sacro. Ecco, e questa organizzazione in comune della lettura e della preghiera ha un tale successo che quando arriva poi il pastore inviato dal sinodo viene di fatto cacciato e la comunità di Warmond continua a praticare il rito religioso in questo modo. Quindi attraverso, affermando di fatto, la piena libertà di parola a tutti i partecipanti degli incontri religiosi. E questa modalità di organizzare il rito viene poi gradualmente riconosciuta e si sparge un po' in tutta l'Olanda, dove sorgono appunto nuovi collegi. Ed è interessante che a questi collegi partecipano non solo i calvinisti, ma anche membri delle chiese mennonitiche, cioè gli anabattisti, che potevano frequentare completamente i collegi e restare legati alla loro comunità, si 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 partecipano dei quaccheri, partecipano perfino dei socciniani e esponenti del razionalismo scettico. La libertà di commentare le nuove scritture viene chiamata dai collegianti libera profezia e i riti vengono chiamati esattamente colloquia profetica e diventano il principio di funzionamento di queste religioni. Ci sono anche alcuni testi che ne parlano, ad esempio il collegiante menonita di Leiden, Laura Sklinghammer, scrive nel 1655 un libretto intitolato Libertà di Parola nella Comunità dei Cregenti, in cui dice proprio che ci si deve affidare interamente ai predicatori, solo loro devono parlare e noi dobbiamo seguirli come stupidi animali, sono forse soltanto i loro sostenitori infallibili della verità? Sono soltanto loro e Dio ha lasciato cadere il suo spirito solo su di loro, così che essi non vogliono e possono ingannarci. Vedete come viene messo proprio in discussione qualsiasi dimensione carismatica della comunicazione religiosa, se non un'idea che il carisma sia in realtà universale e sia diffuso su tutti gli individui. Non solo, ma Klinghammer accusa il clero ortodosso di trasformare, di attuare una predicazione di tipo puramente teatrale, puramente scenica, di fatto riprendendo, anzi Spinoza sembra riprendere, perché scrive 15 anni dopo, quando dice che i predicatori trasformano il tempio in un teatro, sembra di fatto riprendere proprio le sue parole, accusare in qualche modo questi predicatori di introdurre un doppio livello, una gerarchia che mette in crisi appunto quella che secondo i collegianti deve essere invece una radicale uguaglianza tra tutti i credenti. Occorre, dice Klinghammer, ritornare alla comunità originaria dei cristiani dove non esistevano teologi o predicatori di professione, ma solo fratelli che cercavano di sostenersi reciprocamente. C'è una citazione che compare continuamente, una citazione biblica che compare continuamente nelle opere di questi collegianti, che è un passo del capitolo quattordicesimo della prima lettere dei Corinti di San Paolo, che dice colui che profetizza edifica la comunità. Questo è proprio lo slogan che questa setta collegiante aveva utilizzato per definire la propria pratica di culto. La profezia così intesa pone le basi per una ricerca comune della verità e costituisce un aspetto fondamentale per ricreare quel rapporto puro che la comunità originaria dei fedeli intratteneva con Dio e che era stato troncato dalla separazione dei credenti nella classe clericale da un lato e quella dei laici dall'altro. Un altro interessante autore è un predicatore della congregazione di Amsterdam, alla quale aderiscono i due amici di Spinoza, Peter Baling e Yerich Gelles. Tra l'altro ho dimenticato di dirlo, ma è possibile, io almeno non ho informazioni, e a quanto ne so, credo neppure gli altri, ma è possibile che Spinoza abbia partecipato ad alcuni di questi colloquia profetica perché nel periodo in cui lui viveva a Reinsburg c'era una comunità di collegianti molto attiva e alla quale partecipavano anche dei suoi amici e conoscenti. Quindi potrebbe essere benissimo, visto la disponibilità e l'apertura di questi incontri, che Spinoza fosse stato curioso di andare a partecipare ad essi. Dicevo, questo secondo importante testimone delle pratiche collegianti si chiama Galenus Abrams de Han, che appunto è predicatore ad Amsterdam, che riprende il tema, anche lui il tema, Anna Battista della caduta della Chiesa, istituita da Cristo, ed è la necessità quindi per superare la corruzione nella quale si vive dei veri credenti di intraprendere un nuovo cammino, restituire la Chiesa alla sua santità primitiva. Un cammino, dice Galenus, sostenuto dalla nuda fede e una speranza priva di certezza. Quindi, al di là di questo, Galenus, come King Hammer, e forse ancora più radicalmente di King Hammer, sostiene la natura puramente, radicalmente umana di ogni comunità ecclesiastica e su questa convinzione fonda la sua strenua difesa della libertà di parola e la tolleranza nei confronti degli altri confessioni. Però, badate bene, questa umanizzazione della comunità ecclesiastica non è una privatizzazione, una depoliticizzazione della religione. Al contrario, in tutti questi autori, in Galenus in particolare, in alcuni di più, alcuni di meno, permane un'ansia, potremmo dire, millenaristica in alcuni aspetti, o comunque di un desiderio di costruire un rapporto più stretto con Dio, ma non su base individuale, ma su base collettiva, cioè di creare una vera comunità dei fedeli. E quindi, appunto, ancora una volta, mi sembra che si tratti di un progetto completamente diverso dall'idea o dal progetto condotto, per così dire, da quel filone di pensatori, di autori e anche poi di politici, no? Che tendevano a spoliticizzare o a individualizzare o a privatizzare la dimensione religiosa. Qui siamo di fronte a un tentativo di politicizzare la religione, ma in una direzione attraverso degli strumenti completamente diversi rispetto a quello che avevano messo in campo, ad esempio, i calvinisti dell'epoca. Vado a concludere, ecco, dicevo quindi, tornando al trattato teologico-politico per concludere, io credo che ci sia una, sia riscontrabile, una chiara, come dovrebbe dire, antologia tra l'esperienza e la, come dire, e anche la riflessione per quanto di questi collegianti e la proposta esegetica di Spinoza. Nel capitolo 7, dedicato all'interpretazione delle scritture, Spinoza dichiara che, cito, dai principi del nostro metodo non segue necessariamente che il volgo sia quieti nella testimonianza degli interpreti, ma esso, l'uomo comune, appunto è in grado di attingere a quanto è necessario la salvezza dal momento che, dice Spinoza, si tratta di cose molto comuni e usuali. Quindi questo fondamento egualitario che era presente nella pratica collegiante e anche nella sua teorizzazione, del fatto della possibilità di percepire il vero, determina, così come appunto veniva praticato dai collegianti, determina, a mio modo di vedere, anche la natura fondamentalmente democratica dell'esegesi biblica spinoziana, cioè il suo rifiuto, la sua lotta appassionata contro ogni autoritas. Badate, non solo l'autoritas trascendente di un potere, appunto, teocratico, ma anche l'autorità della ragione, o per meglio dire, la ragione concepita o immaginata come un'autorità, come un monopolio dei saggi, dei filosofi, no? Non c'è niente di tutto questo, a mio modo di vedere, qui non ho il tempo per, come dire, articolare il discorso nella proposta esegetica di Spinoza. Resta il fatto che il testo biblico diventa, si manifesta in una sorta di campo di battaglia, un conflitto contro chi cerca di conquistare il monopolio delle esegesi per imporre il proprio dominio sulle coscienze. E la lotta che Spinoza intraprende passa necessariamente attraverso la definizione del significato di attribuire alla divinità del testo sacro, no? Poiché, dice Spinoza, si definisce sacro e divino ciò che è destinato all'esercizio della pietà e della religione, ne consegue che anche la scrittura intanto è sacra, in quanto muova gli uomini alla devozione verso Dio. Quindi liberarsi da ogni pregiudizio superstizioso significa liberarsi da qualsiasi concezione o interpretazione dogmatica per cogliere la vera e effettiva portata del messaggio biblico nel sua capacità di orientare e di indirizzare l'agire dell'uomo, no? Quindi la dimensione puramente pratica del messaggio biblico e da questo punto di vista in qualche modo solo una libera, come dire, solo una libertà di interpretazione, la libertà di indagine può condurre alla liberazione dai pregiudizi. Guardate, non si tratta di identificare la libertà di indagine con la liberazione del pregiudizio. Sono due libertà diverse, sono due libertà che stanno in una continuità problematica, però la libertà di indagine è condizione necessaria, forse non sufficiente, ma necessaria per liberare gli individui del pregiudizio e per permettere che la collettività attraverso un discorso comune, un ragionamento comune, possa gradualmente arrivare a comprendere e successivamente a mettere in pratica il vero messaggio della religione ebraico-cristiana che evidentemente qui stanno in una continuità. Questa idea di un'esegesia democratica secondo me poi si ripercuote, risuona anche su un orientamento più specificamente politico, più dichiaratamente politico negli ultimi capitoli del Trattato Teologico-Politico e nel Trattato Politico successivo. Bene, io sì, ho sforato un po', però io direi che a questo punto mi fermo e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Stefano, abbiamo ascoltato la relazione di Stefano nella quale Stefano ci ha mostrato un altro aspetto del Trattato Teologico-Politico nel quale in qualche modo si tratta di passare, anche la volta scorsa abbiamo sentito parlare la lettura straussiana, anche se poi ci ha fatto perdere la metà degli ascoltatori, nella quale in qualche modo Spinoza in una forma, nonostante la teoria di Spinoza sarebbe sostanzialmente una dissimulata teoria della liberazione dalla religione. Qui invece in qualche modo abbiamo visto come a partire dal trattamento delle comunità apostoliche e poi del modo in cui la pratica collegiante in qualche modo può essere letta sullo sfondo il discorso ermeneutico di Spinoza, abbiamo visto una possibilità diversa di un rapporto più articolato con il religioso, diciamo così, che è in qualche modo una liberazione non dalla profezia ma della profezia e con tutte le aperture che questo comporta. Io però da buon moderatore mi taccio e raccolgo eventuali domande, dando quindi priorità a chi volesse intervenire e farlo, se invece lascio il tempo, intanto chiudo cose sullo sfondo disturbano, se no spezzo io il ghiaccio come si dice, con una domanda. C'è una mano alzata? Sì, l'ho alzata io. Ah vai Diego. Sì, allora grazie, grazie Stefano. Mi sentite? Sì. Io ho una domanda, non retorica, proprio una domanda di chiarimento a Stefano. Allora, quando tu parlavi del verbo raziocinare, raziocinare, disputare, raziocinantur, come viene indicato nell'undicesimo capitolo, con riferimento all'esperienza degli apostoli, mi pare, se ho capito bene, che tu interpreti il senso di questo raziocinare non nell'ottica della conoscenza di secondo grado, di secondo genere, insomma, la conoscenza razionale dell'etica, ma come un raziocinare, un disputare in senso letterale che contraddistinguerebbe l'esperienza apostolica rispetto a quella profetica e che Spinoza mutua un po' dal, appunto, da quelle esperienze collettive, se vogliamo, liberali, come le chiamavi, no? Appunto, di letture, discussione della Bibbia, dei gruppi, appunto, dei gruppi eretici con cui era stato in contatto, dei gruppi eretici cristiani con cui era stato in contatto. Ecco, volevo appunto chiederti un chiarimento su questo, cioè, se queste esperienze, appunto, per Spinoza, secondo te, sono appunto un modo, un filtro per rileggere l'esperienza profetica, dando appunto un senso al termine raziocinare che non è quello propriamente, ecco, della conoscenza di secondo grado dell'etica, insomma, della conoscenza adeguata. Sì, ma io credo che, appunto, non ho fatto un'analisi filologica dell'uso del verbo raziocinare, però nel contesto in cui lo usa in queste pagine, in cui, appunto, come dicevo prima, è accompagnato da altri verbi che indicano, appunto, la discussione, la disputa, il confronto, e l'incertezza anche che, e questo è interessante, no? Cioè, Spinoza, sembra individuare nella, che è abbastanza peculiare come interpretazione, no? Cioè, che gli apostoli non siano così assolutamente convinti del messaggio che comunicano, mi verrebbe da dire, o quantomeno non siano completamente convinti di tutto quello che dicono, no? Cioè, è come se aspettassero che, o si aspettassero che dal dialogo, dal confronto, emergesse una posizione più vera, più solida, no? E, d'altra parte, in questo senso, quindi, io interpreto il verbo raziocinare, come dire, alla luce di quel famoso versetto quarto del capitolo 14 di San Paolo ai Corinzi, che è tutto un testo sulla profezia, in cui, appunto, la profezia edifica la comunità, no? Cioè, se noi leggiamo, cioè, è chiaro, non sto dicendo che San Paolo desse un'interpretazione così materialistica del concetto di profezia, evidentemente, sto dicendo che se noi leggiamo quell'affermazione alla luce delle pratiche dei collegianti e, dall'altro lato, della teorizzazione, della riflessione teorica di Spinoza, possiamo interpretarlo, e io credo che in certo senso i collegianti lo interpretassero così, no? Con una secolarizzazione del concetto di profezia, per certi versi, ma che non significa una sua, come dire, o meglio, non una secolarizzazione, una immantenizzazione che non è secolarizzazione, perché permane la dimensione religiosa, solo che anziché radicarsi su una comunicazione trascendente e con lo Spirito Santo, potremmo dire, si radica su un carisma diffuso che permette a tutti di partecipare, ciascuno a suo modo, evidentemente, e quindi appunto la verità emerge come il prodotto di un razziocinare, cioè di un discutere insieme, no? D'altra parte, questo secondo me è anche congruo o coerente con la definizione della conoscenza del secondo grado, no? Cioè quella di nozioni comuni. Eh, su questo appunto. Eh, tu hai dei dubbi su questo. Non lo so, appunto, ti chiedo, ti chiedo come, su quale, ecco, su quale pista stai orientando appunto le interpretazioni di questo verbo, se possa essere compatibile in qualche modo anche con la conoscenza di secondo grado. Sì, secondo me... Io ho un'esistenza discorsiva, ma ecco, non so se l'esperienza apostolica che mi sembra più sottostante dell'immaginazione possa essere, ecco. Io non sono un approfondito studioso, certo, ho letto la seconda parte dell'etica con attenzione, mi interessa, però non sono approfondito studioso delle teorie della conoscenza fino a di anni. Però io, lo dico, ho sempre interpretato il concetto di nozione comune nel duplice senso, di una nozione che accomuna le qualità interne, ma anche di una nozione che è comune. Nel senso che in qualche modo si rispecchia, no? Cioè è comune nel senso che è comunicabile e che per certi versi è un piano sul quale gli individui si accordano, no? Cioè la convenienza avviene certo sul piano affettivo, certo sul piano immaginativo, ma nella sua forma più stabile, più solida, avviene sul piano delle nozioni comuni, cioè della razionalità, cioè come costruzione comune. Questa è una mia interpretazione, certo che è un'interpretazione che forza probabilmente il discorso della seconda parte dell'etica a partire da quello che Spinoza dice nei trattati, no? La sua insistenza sul convenire, la sua insistenza sul dibattito, del famoso passo che se è vero che mentre i romani dibattino c'agunto cade, però d'altra parte è solo attraverso la comunicazione, il dibattito e la discussione che emergono effettivamente delle decisioni che condivise da tutti e che quindi tengono in piedi le istituzioni di una Repubblica, di una Civita. Sì, sì, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Mi chiedevo se possa essere esteso questo modello anche alla conoscenza postbologica e alla forma appunto della comunicazione. Secondo me sì, secondo me sì. Anche perché poi bisogna cedere, però per permettere a chi volesse ancora di porre questioni, se ci sono altre questioni, io le raccoglierei tutte in un colpo. Ma è lo stesso, sì, sì. Cercherò di essere più sintetico. No, no, abbiamo cominciato anche un po' tardi. Il mio posto Diego è molto interessante, anche se ci porterebbe in direzione più… Allora, se ci sono mani, allora io ho una cosa… Io sono molto vicino a quello che dici, però c'è un punto su cui avevo delle perplessità, perché tu per passare ai collegianti, passavi attraverso appunto gli apostoli, però… Non ti sento più. No, non si sente più, evidentemente si è bloccato. Sono scomparso, sono scomparso. Spinoza sembra veramente distinguere nell'apostolo il profeta dal non profeta, per cui c'è il momento in cui l'apostolo parla da profeta e c'è quello in cui invece parla raziocinando. Per cui invece unendoli a partire dall'unità della figura e quindi facendo di quel raziocino una forma di profezia, secondo me in qualche modo si rischia di… Cioè, qual è il punto? Il punto è che la profezia, detto in una parola, volendo anche semplificatoria, ha in sé un carattere autoritario, nella misura in cui io parlo al nome di Dio a qualcuno che non ha accesso a quella stessa fonte e che può accettare le mie parole solo a partire da una pregressa fiducia. E quindi è una relazione asimmetrica quella profetica. Mentre quello è il raziocinio del dialogo, della discussione, eccetera, come sarebbe… Forse perché? Perché una democratizzazione della profezia è una specie di contraddizione in termini, a misura in cui se tutti siamo profeti, tutti abbiamo accesso a quella parola e nessuno la deve ricevere da qualcun altro perché non può più andare alla fonte. E quindi mi domandavo se in questo senso proprio il fatto che tu rileggi anche il metodo di lettura, il metodo esegetico di Spinoza, alla luce di quella pratica, forse in fondo Spinoza parla lì, riattualizza se vogliamo anche la pratica collegiante, però senza parlare di profezia. Cioè dice facciamo quella stessa cosa, ma non a caso non usa il concetto di profezia, ma usa quello di lettura, che è un'altra… e mi domando… questa è una domanda che va al limite con l'autoanalisi, quella che ti chiedo, però se in fondo questa tua lettura non dipende… hai detto costituente, potremmo dire anche… potremmo usare altre parole, però insomma la dimensione politica, collettiva, dove democratica non solo come ognuno che individuo esprime, va nella tenda e chiama a Dio, ma ci si riunisce insieme e si forma nel dialogo, un comune sentire. Ecco, mi domando se il tuo mettere la profezia lì non sia, tu dicevi una forzatura, ma una forzatura finalizzata a politicizzare, in senso forte, in senso… non che io abbia nulla in contrario, però non so se mi sono spiegato. Sì, credo sì. Forse… cioè, io ho capito una cosa e che è assolutamente condivisibile e cerco di spiegarmi meglio. Cioè, allora, tu dici, certo, la profezia nel mondo antico e anche come viene interpretata e praticata dai calvinisti e anche da altri gruppi religiosi, però dai calvinisti in particolar modo all'inizio dell'età moderna ha un carattere autoritario, perché in qualche modo il profeta ritiene, dichiara, afferma, di avere un rapporto privilegiato, di tipo appunto carismatico con la divinità, con la trascendenza e quindi si pone su un piano diverso rispetto al resto dei fedeli che anzi riconoscono, no? Questo carisma, riconoscono e lo seguono, come dire, fidandosi ciecamente. Ora, io sono… penso che Spinoza volesse mostrarci come fa anche nei primi capitoli di Trattato dell'Oggi e Politico come fa anche con molte altre termini o concetti, come fa con il concetto di elezione, come fa con il concetto di legge, eccetera, volesse mostrarci che questa convinzione che era realmente presente, cioè, non è che i profeti ebraici non pensassero questa cosa qui, non pensassero o non immaginassero meglio di essere in diretto contatto con Dio. questa loro potenza immaginanti andava in una dubbio, cioè, erano anche probabilmente particolarmente soggetti a forme di autoillusione, potremmo dire, no? Quindi, i profeti ebraici erano sicuramente convinti di avere un rapporto privilegiato e di parlare da un piano, come dire, e di avere quindi che la loro parola avesse una dimensione autoritativa, se non autoritaria. Spinoza però dice, guardate, se questa cosa è vera, se questa cosa era efficace, se questa cosa funzionava, non era perché i profeti parlavano con Dio, ma era perché questi profeti in qualche modo parlavano con il popolo, cioè, avevano questa capacità che era una capacità di, in qualche modo, interpretare, di riconoscere, per così dire, appunto, le linee, i caratteri, i tratti più specifici dell'immaginazione e dell'affettività comune del loro popolo e di riproporli, ricomunicarli al popolo stesso nella forma più convincente. Cioè, è questo il motivo per cui facevano breccia sul cuore degli individui, perché in realtà dicevano agli individui quello che loro erano, lo riuscivano a esprimere con gran forza quello che in qualche modo il popolo, mi verrebbe da dire, insomma, esprimeva implicitamente, no? Quindi, certo, il carattere autorizzativo rimaneva, ma rimaneva con una dimensione puramente fantasmatica perché realmente la profezia era radicata sull'immanenza. In questo modo, però, la democrazia è l'essenza di qualunque, nel senso anche la profezia antica, quella mosaica è di per sé stessa democratica, per cui il paradosso rischia di essere una democratizzazione retrospettiva della democrazia d'Ugur, non so se... Io credo che Stinoda fosse convinto che la democrazia è l'essenza di qualsiasi regime politico. Su questo non ho mai dubbi. Che la potenza della moltitudine sia all'origine di qualsiasi regime politico, anche di quelli meno esplicitamente democratici. Ma per tornare a noi, qual è il grande passo in avanti compiuto dal cristianesimo e dall'apostolato in particolar modo? Che è un passo in avanti ma che è anche una continuità, per questo io insisto sul fatto che non si tratta di una rottura netta. Il fatto che più dei profetti ebraici, più dei profetti antichi, gli apostoli sono in qualche modo consapevoli del carattere collettivo di questa verità che emerge, potremmo dire. Quindi è vero che la lettura non è una profezia, però c'è un motivo per cui i collegianti la chiamano profezia, perché i collegianti la chiamano profezia. Cioè, due sono i motivi. Uno è sicuramente il fatto che i collegianti ancora in qualche modo ritengono che per così dire ci sia un contatto, un rapporto, una relazione con una dimensione carismatica. Solo che anziché essere il monopolio di pochi, questa dimensione carismatica che proviene da Dio è, per così dire, diffusa nella collettività. Quindi siamo tutti profeti. Siamo tutti profeti, però al tempo stesso c'è anche una dimensione più materialistica mi viene da dire, o più, come dire, più legata per certi versi ad un cristianessimo vissuto come pratica, come etica piuttosto che come dogmatica. E per cui, certo, siamo tutti profeti significa tutti quanti sappiamo, come dire, abbiamo un'idea generale di qual è il messaggio cristiano, se dialogando, discutendosi, leggendo insieme la Bibbia non faremo altro che in qualche modo perfezionare questa conoscenza generale che abbiamo, rafforzarla e creare effettivamente le basi per una nuova comunità capace di riprendere quel legame spezzato con Dio, quel legame che era proprio della Chiesa. Perché questi sono convinti di vivere in un tempo come molti movimenti della cosiddetta riforma radicale, di vivere in un tempo di profonda corruzione e quindi c'è questa ansia anche millenaristica anche più o meno esplicitata perché ovviamente gli annabattisti che partecipavano a questo gruppo erano più millenaristi, i sociniani sicuramente lo erano di meno, però c'è comunque questa idea che bisogna che i colloquio profetiche sono un modo per instaurare un nuovo piano di comunicazione tra gli uomini e Dio. Chiaro, Spinoza su questo ha delle idee diverse, però secondo me è profondamente influenzato da questa continuità nella rottura tra esegesi e profezia. Non so se ti ho risposto nel senso che dovrei andare avanti, però insomma comunque è un punto delicato, certo, è anche un punto in cui forse io forzo un po' il discorso per carità. E niente, allora io ti ringrazio e anche per quello che è uscito fuori della discussione a questo punto Giuseppe se ci sei se vuoi io ascolto Giuseppe però intanto mi allora mi silenzio com'è che si fa va bene insomma arrivederci grazie Francesco saluti a tutti ci sentiamo ecco Ludovica ha messo in evidenza Giuseppe e allora siamo un po' fuori con i tempi per cui eviterei come anche la volta scorsa pause per dare anche alla seconda relazione la stessa la stessa possibile durata insieme al dibattito e niente allora Giuseppe d'Anna insegna storia e filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano penso se non mi sbaglio che il suo percorso di studi almeno nella sua dimensione pubblica parte effettivamente con Spinoza e quindi con il suo primo libro uno intuito videre dedicato all'ultimo genere al terzo genere di conoscenza poi Spinoza continua ad accompagnare i suoi studi penso per tutto il suo percorso anche se questi si ramificano fra vari autori sia moderni come Hume e Vigo o anche in un altro ambito forse biograficamente anche precedente a quello spinoziano Schelling e Elderli e poi soprattutto con i suoi lavori più sistematici su Hartman il quale ha dedicato due libri oltre a credo anche ad aver curato una raccolta di scritti su Spinoza lo spinozismo come dire di Giuseppe è uno spinozismo sui generis ma comunque che parte appunto dalla questione del terzo genere e si articola su una serie di questioni connesse la questione della trascendenza quella della relazione il rapporto fra eternità e temporalità l'amore di Dio la scienza intuitiva oltre ad un saggio che io non ho letto però sarei curioso di leggere sul tragico apparente dello spettacolo che parte da Spinoza a Jasper e questo che ha sorpreso Debord comunque lascerei senz'altro la parola a Giuseppe che ci parla di il Cristo e la scienza intuitiva lo ringraziamo e io cerco di cancellare non so se si è interrotta l'immagine mia di Beppe o se sono io che sono fuori e voi non mi sentite più no io ti sento bene Francesco ok ma tu la telecamera ce l'hai attiva? sì assolutamente sì vedo te e vedo me ecco qui inizio? posso iniziare? sì sì buon pomeriggio a tutte e a tutti ringrazio Francesco Toto per questo invito e cercherò assolutamente di stare nei 30 minuti massimi in questo incontro cercherò di argomentare la possibilità di attribuire al Cristo di Spinoza il terzo genere di conoscenza vale a dire la scienza intuitiva per fare questo mi riferirò ad alcuni passaggi del trattato teologico politico e anche ad altre opere dello stesso Spinoza citerò poco il breve trattato alcuni passaggi dell'etica e inevitabilmente i passaggi di alcune epistole parliamo parliamo casualmente del Cristo di Spinoza perché è Spinoza che in più passaggi differenzia la sua concezione di Cristo da quella dei dogmi delle chiese infatti nel primo capitolo del trattato teologico politico Spinoza scrive cito ma è opportuno osservare qui che io non intendo parlare di quelle cose che alcune chiese insegnano intorno a Cristo e nemmeno negarle già che confesso senza difficoltà di non capirla nello stile di Spinoza né deridere né criticare dunque ma comprendere quanto è possibile comprendere ma che cosa non è del tutto comprensibile o ammissibile rispetto alle dottrine che queste chiese professano sul Cristo per Spinoza beh sono almeno due questioni Spinoza mostra di avere qualche difficoltà con la crocifissione di Cristo intesa come spiazione del male umano certo scriverà a Oldenburg di ammettere la passione e la morte ma non la resurrezione secondo la carne però in una epistola del 13 marzo del 1665 la numero 23 per l'esattezza indirizzata a Blainberg Spinoza identifica morte in croce e suicidio e scriveva questo supposto che possano essere vinature si fatte io dico che se qualcuno si accorgesse che potrebbe vivere più o meno a suo agio in croce che a tavola sarebbe il più stolto degli uomini se non si facesse crocifiggere a mio avviso ma non è questa la sede in questa affermazione vi è tutta la coerenza metafisica dell'etica spinoziana ma nello stesso tempo si palesa anche il riduzionismo della stessa nei confronti della specificità del fatto umano e della sua libertà oltre a questa ambivalente posizione nei confronti della crocifissione di Cristo ciò che Spinoza trova inammissibile dal punto di vista razionale è la resurrezione di Cristo secondo la carne infatti nella lettera 78 del 6 febbraio del 1676 Spinoza in risposta a Oldenburg con il quale su questo punto non si comprenderà più in realtà scriveva di essere d'accordo nell'intendere letteralmente la morte e la passione di Cristo ma non la sua risurrezione e concludeva affermando infatti Paolo al quale Cristo in seguito apparve si vanta di aver conosciuto Cristo non secondo la carne ma secondo lo spirito detto questo i riferimenti alla figura di Cristo nell'opera di Spinoza sono relativamente frequenti e soprattutto nel trattato teologico politico fanno esplicito riferimento alla relazione Cristo-Dio in una prospettiva che può essere letta anche dal punto di vista epistemologico vale a dire ponendo l'accento sul modo in cui Dio è conosciuto da Cristo in uno dei suoi ultimi lavori il titolo è Uno Spinoza diverso l'etica di Spinoza e dei suoi amici pubblicato nel 2011 Divona sosteneva che il Cristo ebbe secondo Spinoza la conoscenza di secondo genere l'abbiamo sentito anche prima Stefano ha sostenuto questo e non la scienza intuitiva quindi Cristo conoscerebbe secondo la razio ma non secondo la scienza intuitiva Divona alle pagine 25 e 26 del testo che ho citato ora richiamandosi al capitolo quinto del breve trattato e del trattato teologico politico e citandolo scriveva da ciò è facile comprendere che Cristo non abrogò affatto la legge mosaica perché non volle introdurre nuove leggi nello Stato ma non si curò di null'altro che di impartire insegnamenti morali e di distinguerli dalle leggi dello Stato Divona commenta questo passo per noi dice con chiarezza che l'insegnamento di Cristo per Spinoza fu solamente morale e perciò contenuto nei limiti della ragione comune a tutti gli uomini quindi a tutti comunicabile senza che ci sia bisogno di far intervenire la scienza intuitiva e prosegue Divona questa idea del Cristo che parla come un dottore non come un profeta porta anche essa a ritenere secondo noi che Cristo per Spinoza ebbe la conoscenza di secondo genere e parlo secondo la conoscenza di primo genere quando si espresse con parabole ma non ebbe la conoscenza di terzo genere Divona abbiamo visto nel testo poco sopra menzionato cita il capitolo quinto del trattato teologico politico in cui la frase sulla quale concentrare l'attenzione è la seguente il Cristo impartì unicamente insegnamenti universali Christus quid documenta universali ad hoc non ho mai trovato convincente la posizione di Divona su questo punto e ebbe anche occasione di dirglielo per due motivi da un lato infatti Spinoza in questo contesto ci sta dicendo come Cristo abbia insegnato e non come abbia conosciuto Dio e dall'altro anche se è vero che Spinoza distingue i dottori dai profeti per certi versi e che il linguaggio dei dottori è l'abbiamo visto prima più di tipo discorsivo e quindi forse meno immaginativo ma essendoci il linguaggio chiaramente implica anche l'immaginazione risulta però del tutto ambiguo quell'universaglia come attributo di documenta cioè la conoscenza di secondo genere infatti la razio come ci insegna Etica 2 proposizione 40 scoglio secondo si fonda sulle nozioni comuni quelle nozioni vale a dire che per la proposizione 38 di Etica 2 sono comuni a tutti e che sono parimenti nella parte nel tutto ma non spiegano l'essenza di alcuna cosa singolare Spinoza identifica a volte le nozioni comuni con gli assiomi quindi eventualmente Cristo insegnerebbe ma non conoscerebbe Dio attraverso la conoscenza di secondo genere se però non sorgesse un ulteriore problema vale a dire quello della non coincidenza in Spinoza tra noziones comunes e le noziones che sono dette universales e che come attestato da Etica 2 proposizione 40 scoglio primo derivano invece dall'immaginazione gli esempi che Spinozia fa sono quelli dei concetti di uomo cavallo e cane che è vero sono concetti e non sono insegnamenti pur ammettendo la distinzione di natura tra noziones universale e documenta universalia vale a dire tra una nozione un concetto e un insegnamento tuttavia gnosiologicamente sul piano della teoria della conoscenza è forse possibile sostenere che il Cristo insegna con il secondo genere di conoscenza la razio anche se non per il fatto di impartire insegnamenti morali ma piuttosto per il modo in cui l'impartisce ma non che conosca Dio secondo questo genere di conoscenza nel trattato teologico politico la differenza per il nostro tema sembrano farla gli avverbi i quali garantiscono alla conoscenza di Cristo uno dei caratteri essenziali che specificano la scienza intuitiva come modo del conoscere nelle opere principali di Spinoza questa nota è l'immediatezza un passaggio dal capitolo primo del trattato teologico politico mi è utile ad argomentare quanto poi sosterrò in seguito scrive infatti Spinoza e benché comprendiamo chiaramente che Dio possa manifestarsi immediatamente immediate la vergolatino agli uomini infatti egli comunica alla nostra mente la sua essenza senza usare mezzi corporei tuttavia affinché un uomo possa percepire con la sola mente cose non contenute nei primi fondamenti della nostra conoscenza né deducibili da essi dovrebbe necessariamente possedere una mente superiore e di gran lunga più eccellente della mente umana perciò credo che nessuno sia pervenuto ad una così grande perfezione al di sopra degli altri se non Cristo al quale i precetti di Dio che conducono gli uomini alla salvezza furono rivelati non con parole o visioni quindi non profeticamente ma immediatamente immediate appunto in queste poche righe l'abbiamo appena letto l'avverbio immediate è ripetuto per due volte e possiamo intenderlo come contrapposto alla modalità mediata della conoscenza profetica una conoscenza l'ha ben spiegato Stefano prima di tipo immaginativo basata sulle parole e sulle immagini sulle figure la quale proprio per questo conosce oblique sicché infatti Spinoza scrive mentre Mosè parlava con Dio faccia a faccia come un uomo è solito fare con un compagno attenzione a questa specificazione cioè con la mediazione dei loro due corpi oc es mediantibus duobus corporibus Cristo invece comunicò con Dio da mente a mente Christus quidem de mente ad mente cum deum comunicabit l'immediatezza come ho accennato in precedenza è una delle note fondamentali del terzo genere di conoscenza in Spinoza nel breve trattato il terzo genere di conoscenza è connotato attraverso l'aberbio olandese terstond cifra della sua immediatezza o subita neita chi conosce con la conoscenza chiara e distinta ci dice Spinoza viene detto nella parte seconda del capitolo primo del breve trattato non ha bisogno né del sentito dire né dell'esperienza né dell'arte del ragionare perché egli vede immediatamente con l'intuizione la proporzionalità e tutti i calcoli anche nel trattato sull'elementazione dell'intelletto la questione non muta coloro che conoscono intuitivamente sono in nulla operazione in facentes cioè coloro i quali non hanno bisogno di fare alcuna operazione e infine in etica 2 proposizione 40 scoglio secondo chi conosce con la scienza intuitiva vede uno intuitu vale a dire con uno sguardo nessuna mediazione né di segni né di parole né di argomentazioni e nemmeno di nozioni comuni caratterizza il sapere intuitivo perché esso a ben vedere traduce l'immediatezza ontologica extratemporale quindi eterna di Dio e delle sue articolazioni mediare vale a dire l'ontologicamente eterno significa temporalizzarlo comporlo derivarlo e questa immediatezza ontologica deve guadagnare una traduzione epistemologica che sia ugualmente immediata che è la scienza intuitiva appunto in questa direzione Cristo incarna a mio avviso un esempio per la verità l'unico insieme ad un discorso sulla religione di sapere intuitivo nell'opera di Spinoza comunicando con Dio de mente ad mente Cristo si conosce come parte dell'intelletto infinito di Dio modo infinito dell'attributo dell'espensione o idea di Dio questo è il motivo per il quale in Etica 4 proposizione 68 Scoglio Spinoza può identificare lo spirito di Cristo con l'idea di Dio e nell'epistola 74 ad Oldenburg sostenere che per la salvezza non è assolutamente necessario l'abbiamo già visto conoscere Cristo secondo la carne mentre tutt'altra cosa per quel che riguarda quell'eterno figlio di Dio che è la sapienza eterna di Dio la quale si è manifestata in tutte le cose e massimamente nella mente umana e in modo particolare in Gesù Cristo nel breve trattato inoltre nella prima parte del capitolo 10 a tal proposito torna l'idea di figlio di Dio laddove Spinoza afferma che l'intendere nella cosa pensante vale a dire l'intelletto come modo infinito dell'estensione è figlio opera o immediata creazione omnidelik questa volta è il termine olandese esistente dall'eternità e sussistente dall'eternità sembrerebbe dunque che la comunicazione con Dio mente a mente attraverso la scienza intuitiva divenga un sapersi immediatamente parte dell'intelletto infinito di Dio e dunque parte della sua mente e della sua idea d'altro canto la diade spirito-mente è risolta semanticamente da Spinoza nel primo capitolo del trattato totologico-politico laddove viene chiarita la significazione dell'emma ebraico ruach che significa vento il sesto significato di questo termine preso in considerazione da Spinoza è quello di mente o anima così come esattamente lo intende l'Ecclesiaste 3.19 in cui si legge lo spirito-anima identico in tutto e lo spirito ritorna a Dio in questo sesto significato Spinoza pare identificare spirito-mente e dunque ogni volta che si parla dello spirito di Cristo è possibile forse intendere anche la mente di Cristo come per esempio accade nella già citata Epistola 73 indirizzata ad Oldenburg in cui viene detto che la sapienza di Dio massimamente presente in Gesù Cristo insegna cosa è il vero e cosa sia il vero ed il falso i discepoli di Cristo predicarono quanto fu da lui rivelato per questo spirito di Cristo mostrano di potersi gloriare soprattutto gli altri Spinoza può far valere per questo nel capitolo 12 del trattato teorico nel trattato teologico politico se appunto Cristo è colui che rivela la sapienza della mente di Dio attraverso l'immediata conoscenza di Dio allora Spinoza abbiamo detto può far valere che la religione cattolica è sommamente naturale non sarebbe dunque del tutto inopportuna quell'ipotesi ermeneutica che facesse coincidere il Cristo spinoziano forse con il saggio dell'etica a patto però di escluderne in qualche modo il suicidio in croce da quanto detto tuttavia è possibile è possibile evidenziare forse una oscillazione della figura di Cristo nella filosofia spinoziana da una parte essa pare sciogliersi nel concetto di idea di Dio identificandosi a tratti con la natura dell'intelletto infinito dall'altra essa emerge nella sua umanità storica sebbene eccellente almeno quando Spinoza afferma di credere alla sua passione e alla sua morte con la scienza intuitiva però la distanza tra finitudine del modo infinità della sostanza si riduce siccome vale a dire quella frattura gnoseologica che caratterizza l'immaginazione e l'uomo si conosce come parte della totalità il Cristo uomo conoscendo intuitivamente Dio comunicando con lui mente a mente si compie come parte dell'intelletto infinito di Dio diventando esso stesso idea di Dio o parte dell'idea di Dio meglio in questa direzione il Cristo intelletto infinito e il Cristo modo finito divengono la stessa cosa espressa in maniera diversa vi è però una nota ulteriore che rimane ambigua nella conoscenza di Cristo ce ne sono tante in realtà che Spinoza non pare chiarire cioè quella relativa all'eccezionalità della umanità di Cristo o così sembrerebbe se torniamo al primo capitolo del trattato teologico politico infatti qui è detto che Dio comunica alla nostra mente la sua essenza attenzione bisogna specificare bisogna chiedere che l'unico genere di conoscenze in grado di cogliere l'essenza è la scienza intuitiva e tuttavia la nostra mente dovrebbe essere di gran lunga superiore aveva scritto Spinoza nel primo capitolo rispetto a quella umana per afferrare cose non immediatamente intuibili e evidenti questa è una interessante frase di questo capitolo primo perché Spinoza sembrerebbe tornare un po' cartesiano è come se dicesse in fondo la scienza intuitiva funziona laddove le cose evidenti siano molto semplici non è casuale che Spinoza utilizzi quasi sempre l'esempio del quarto proporzionale e non ce ne siano altri e dall'altra parte pare fare riferimento anche alla deduzione fa pensare un po' alla terza regola cartesiana insomma comunque insomma dice Spinoza la nostra mente dovrebbe essere di gran lunga superiore a quella umana per afferrare cose non immediatamente intuibili e evidenti Cristo avrebbe quindi per Spinoza una natura sovrumana va assolutamente negata questa ipotesi dal momento che la sapienza di Dio la sapienza sovrumana ha assunto in Cristo la natura dell'uomo e Cristo la via della salvezza se noi torniamo per un attimo all'epistola 73 ad Oldenburg Spinoza afferma con chiarezza che Dio si manifesta eminentemente nella mente umana e ancora di più in quella di Cristo quindi la scienza intuitiva non eccede la natura umana la presunta sovraumanità di Cristo è da intendere nel senso di una sapiente singolarità una singolarità l'ha scritto molto bene Breton in un suo testo che non lo estranea affatto dall'essenza umana ma in un certo modo lo eleva al di sopra della condizione umana questa eccedenza non è un'eccedenza dell'umano ma se ci si attiene alla sfera del religioso essa consiste in un superamento del profeta e del profetico l'eccedenza del Cristo è da leggere in chiave del tutto umana quindi con la scienza intuitiva l'uomo realizza la sua perfezione in quanto umano elevandosi al di sopra dello stato immaginativo e anche in fondo al di sopra della razio Salomone è un sapiente perché insegna con parole chiarissime che l'intelletto fa l'uomo beato e felice e gli dà la vera tranquillità dell'animo siamo nel trattato logico politico nel quarto capitolo ma non è in possesso della scienza intuitiva Salomone il suo discorso pare piuttosto avere le tinte di una argomentazione chiara torniamo a questo punto al modo di insegnare le cose da parte di Cristo ne accennava Stefano prima appunto che mette in relazione la conoscenza di Cristo e del linguaggio vale a dire la scienza intuitiva se possiamo pensare di attribuire al Cristo la scienza intuitiva e l'immaginazione sono importanti due passaggi del trattato teologico politico il primo si trova nel secondo capitolo afferma che Cristo per convincere i farisei di testardaggine e di ignoranza e per esortare i suoi discepoli sulla via della verità adattò i suoi atteggiamenti alle opinioni e ai principi di colore ai quali rivolgeva le parole mentre il secondo sempre nel capitolo quarto sostiene che Cristo ha sì percepito ciò che è stato rivelato in modo adeguato anche se lo prescrisse alcune volte come legge a causa dell'ignoranza dell'ostinazione del popolo quindi come vicari di Dio e adeguandosi invece alla mentalità del popolo attraverso parabole soprattutto in quest'ultimo passaggio pare evidente che a seconda delle occasioni Cristo abbia insegnato sia mediante il secondo genere di conoscenza attenzione che non rinuncia mai alla sua natura normativa nel breve trattato Spinoza infatti sostiene che il secondo genere di conoscenza indichi come le cose devono essere e andando avanti rispetto al breve trattato quasi usserlianamente potremmo dire sia tra le nozioni scomune e gli assiomi via una possibile identità allora questa normatività nell'etica è assorbita nella sua veste geometrico formale quindi Cristo ha insegnato sia sia attraverso il secondo genere di conoscenza sia mediante il primo genere l'immaginazione con il linguaggio delle parabole ha quindi a ragione di Vona circa l'insegnamento del Cristo se non si può giungere all'ultimo genere di conoscenza fondando la certezza neologica sulla dimensione linguistica dell'immaginazione sembra però che la conoscenza di ultimo genere possa essere mediata al popolo mediante il linguaggio e la parola che divengono così prezioso ausilio per la salvezza del volgo quindi come la rivelazione del profeta varia conformemente alle disposizioni del carattere delle immaginazioni in ragione delle opinioni alle quali il profeta prima era stato influenzato così Cristo che si conosce intuitivamente adatterebbe le sue conoscenze alle impressioni del volgo Cristo vale a dire traduce la sua divina comunicazione mentad mentem in una comunicazione immaginativa e verbale che si serve di parabola e ragionamento ora se volessi rinforzare ancora un po' la mia tesi sul Cristo di Spinoza sarebbe possibile è possibile chiamare in causa pur con tutte le cautele dovute anche la prefazione alle opere postume che non è certamente un documento asettico il paragrafo 42 però è davvero suggestivo perché dice inoltre è chiaro che è una vera conoscenza la conoscenza del nostro salvatore e quindi quella verità quale è invocata da tutti ossia la conoscenza puramente intellettuale di Dio e della sua volontà veritatis non lo è però quella che fa segnamento sull'autorità o su testimonianze esterne come dire Cristo ha conosciuto con la scienza intuitiva ed allora è possibile credere alla risurrezione di Cristo secondo lo spirito e chiudo e non secondo la carne perché il morire del saggio è il morire del suo sé immaginativo e temporale per rinascere sub specie eternità nell'infinità della sostanza questo è l'insegnamento metafisico morale che il Cristo intuente cerca di insegnare al volgo in modo del tutto naturale vale a dire razionale grazie 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 a Giuseppe che nel suo intervento ha ripercorso non solo la questione del terzo genere di conoscenza ma tutti i vari aspetti e noti tematici con i quali la questione del Cristo è connessa con le sue tensioni e oscillazioni per cui come di consuetudine lascerei la possibilità a chi volesse di intervenire e se ci sono mani o messaggi in chat li raccolgo altrimenti sempre come consuetudine a me ha stimolato quello che dice Giuseppe sotto diversi punti di vista c'era però ora per fare solo una domanda una domanda solleva solleva veramente molti molti problemi il trattamento della figura di Cristo però per soffermarmi solo su uno in maniera veramente rapida questo qui se non tu hai detto giustamente che Cristo è come dire un'incarnazione se non altro del terzo genere di conoscenza però quando hai parlato dell'insegnamento hai detto altrettanto giustamente ricordando i passi del trattato del giro politico che che sia che la modalità di insegnamento a seconda anche dell'uditorio potesse che fosse la parabola che fosse l'argomentazione anche il secondo il terzo genere di conoscenza questo io lo trovo chiaramente Spinoza lo dice però mi incuriosisce cioè tu come pensi è come se in fondo ci fosse un contenuto che potesse essere identico a prescindere dalla modalità espositiva cioè quindi è come se secondo te in questo senso l'immaginazione può farsi portavoce di un contenuto intellettuale mi pare che ma allora appunto perché io non secondo me è nel momento in cui Cristo spiega attraverso parabole e quindi le parabole contengono immagini oltre che una costruzione linguistica inevitabilmente ne va di una traduzione immaginativa di quella che può essere Spinoza chiama spesso la salvezza che è rappresentata da Cristo quindi direi in questo caso di sì mi pare che anzi che l'immaginazione se la dovessi pensare come strumento del saggio diviene un ausilio didattico molto interessante in questo in questo in questo senso sì perché cioè lì come si dice appunto sarebbe una specie chi è già in un contenuto traghetta chi non può accedere secondo quella stessa forma approssima come dire però mi viene da chiederti quanti contenuti ci sono per Spinoza secondo te non lo so perché secondo me non so come il dio dell'intelletto possa essere detto univocamente cioè la parola di dio possa essere usata univocamente per il dio dell'intelletto e per il dio per esempio dell'immaginazione in questo senso no per cui ok se la parabola si concentra solo sull'insegnamento pratico e quindi attraverso esemplificazioni no immaginative lascia emergere una regola però qui saremmo nell'ottima di un'illustrazione di un dei brecetti e la ragione allora posso ancora però in realtà sì io adesso appunto l'idea è che che Cristo possa insegnare sia secondo il secondo che secondo il primo il primo genere ora o ammettiamo che ci siano più possibilità di salvezza e quindi oppure c'è una salvezza soltanto che rappresenta da Cristo e che può essere dal punto di vista del modo del modo del conoscere e quindi del linguaggio della conoscenza declinata in maniera diversa allora vedo che c'è Diego e poi Giacomo quindi do la parola prima a uno e poi all'altro Diego cerco di essere molto veloce e poi magari prendiamole tutte e due perché visto che hanno alzato la mano sull'unice l'idea che ci sta dietro sarà la stessa no sono molto molto veloce grazie mille a Giuseppe e Anna per questo bellissimo intervento che a me affascina molto devo dire mi affascina molto questa lettura di Cristo alla luce del terzo genere qualcuno parte diceva mi affascina per quanto appunto lo statuto della conoscenza di Cristo per quanto appunto lo statuto della conoscenza di Cristo a mio avviso continua ad essere molto problematico cioè io sono totalmente d'accordo sul fatto che la forma della conoscenza di Cristo fu una forma intuitiva il famoso de mente ad mente no il punto su cui insomma mi arrovello da tempo è riguardo il contenuto di questa conoscenza cioè che cosa conobbe Cristo al di là della forma della sua conoscenza che cosa conobbe noi sappiamo per certo di Cristo che non è figlio di Dio rispetto alla lettura che ne dà Spinoza nel trattato nelle lettere non è il figlio di Dio inteso come appunto non è Dio non è Dio non è il Dio testamentario è un uomo perfetto che condusse una vita moralmente perfetta che viene consegnata al mondo come appunto esempio di una morale perfetta e universale condivisibile e partecipabile per così dire ma da un punto di vista strettamente morale dal punto di vista dell'azione dal punto di vista della vita pratica dal punto di vista della conoscenza e c'è questa forma appunto di conoscenza intuitiva che poi si traduce in parabole in immagini quando deve essere comunicata al popolo ma che è una conoscenza che coglie che cosa la scienza intuitiva è conoscenza dell'essenza delle cose singolari dedotte immediatamente direttamente degli attributi infiniti in cui le cose si esprimono o si producono quindi conoscenza di questo corpo di questa o quella mente come direttamente prodotte come direttamente collegate alla fonte che è la sostanza infinita questa è la definizione di scienza intuitiva cioè di conoscenza intuitiva la scienza di Cristo che cos'è appunto quanto al contenuto è una domanda non mi so dare una risposta così univoca ecco come mi sembrava dessi tu nella presentazione cercherò di essere molto molto breve tenendo presente che non intendevo in questi 20-25 minuti eliminare tutti i problemi della figura di Cristo per di più io ho scritto sulla figura di Cristo 20 anni fa e mi sono reso conto che la mia posizione non è poi cambiata molto quindi non ci ho capito di più lo dico proprio serenamente però in quello che dici io trovo una frattura tra la metafisica spinoziana e l'etica spinoziana sembra che tu ponga una distinzione tra gli ambiti in realtà io questa separazione nel pensiero di Spinoza non ce la vedo nel senso che rimango convinto che se non avesse voluto proporre una salvezza etica per l'uomo Spinoza probabilmente non si sarebbe occupato di metafisica e la metafisica e la teoria della conoscenza valgono nella misura in cui in qualche modo indirizzano alla virtù alla salvezza e quindi in fondo è molto significativo anche quello che Spinoza dice quando afferma la religione cattolica in fondo è una religione naturale cioè come se volesse dire come se volesse dire è in fondo quella religione che attraverso Cristo attraverso Cristo indica una via di salvezza che ha a che fare con la teoria del conoscere e delle passioni che vi ho indicato Breton in questo libro Spinoza Teologia e Politica addirittura dice identifica i tre generi di conoscenza con tre figure fondamentali tra il logico politico la profezia appunto l'immaginazione i sapienti come Salomone con la razza e il Cristo con la scienza con la scienza intuitiva il punto non sono i contenuti in fondo io credo che conoscere con la scienza intuitiva non è semplicemente conoscere l'essenza ma modifichi l'esistenza no sicuramente si nota se è lì è lì il punto allora chi non chi non arriva a conoscere attraverso la scienza intuitiva beh può essere portato a questo conoscere a questo modo di conoscere attraverso altro attraverso il secondo ed il primo genere nella speranza che modifichi l'esistenza sì questo però vedevo nella tua nel modo di esporre una netta frattura probabilmente lì non siamo d'accordo tra la epistemologia spinoziana e i precetti pratici dell'etica sarebbe strano che Spinoza indicasse principi pratici non conformi alla fondazione nuova stimologica certo dal punto di vista del progetto dell'etica mi pare evidente ovvio sono totalmente d'accordo con te che l'etica sia una diretta conseguenza della conoscenza adeguata che fra piano intellettuale piano etico vi sia uno scambio anzi una saldatura perfetta e necessaria dal punto di vista del progetto etico spinoziano mi chiedo se questa conoscenza se la virtù da cui promana poi la felicità assomma e che procede alla conoscenza adeguata possa essere confrontabile alla conoscenza morale dei profeti di Cristo possa essere paragonabile confrontabile a quel piano a quel livello di salvezza che invece è quello offerto fondamentalmente dalla conoscenza profetica e dall'insegnamento apostolico questo non te lo so dire il punto è che la cosa funziona quando è per bocca di Cristo la cosa è appunto la cosa funziona ma questo viene anche detto quindi la cosa funziona quando è Cristo che insegna che do attraverso il secondo ed il primo genere perché è il terzo genere se non hai il terzo genere non lo medi insomma comunque grazie grazie mille ovviamente è un tema complesso e non grazie grazie Giacomo prego sì buonasera grazie a tutto per per la bellissima relazione ma io in realtà vorrei non era una relazione era un prego l'occasione che ci ha dato da pensare allora diciamo così e vorrei in realtà riprendo cose che sono già state dette alle quali parzialmente hai risposto però le vorrei chiedere una le vorrei porre una questione molto specifica per quello che sono in grado di fare dov'è che allora anzitutto a me sembra molto significativo lo sforzo che fa Spinoza di distinguere prima la profezia mosaica dalla profezia dai profeti e poi di distinguere Mosè da Cristo è un passaggio essenziale secondo quello che lei ha presentato mi sembra molto significativo appunto quello scarto che non è un scarto però una cosa lei diceva è conoscere un'altra è insegnare ora questo tipo di ammesso che abbia capito questo tipo di scarto mi pare che si presenti anche a livello terminologico proprio nella ricezione mosaica della legge cioè quando e qui c'è anche un'oscillazione un'ambiguità in realtà terminologica perché l'edizione Ackerman le porta una differenza cioè una cosa è il difetto di cognizione con la quale Mose riceve una cosa è il difetto di cogitazione con la quale la legge viene in qualche modo restituita al popolo allora mi chiedo nella conoscenza di Cristo stando a tutto quello che lei ha detto dov'è che le cose dov'è che le cose dov'è il cortocircuito cioè dov'è che i giochi non sono no perché qui il problema interessante è che se per Mosè si può criticare fin dall'inizio una inadeguatezza del percepire in Cristo la scelta della parabola è un mezzo inadeguato col quale quella conoscenza adeguata viene viene in qualche modo restituita insegnata impartita al popolo lo è nella misura in cui o almeno lo è perché produce positività perché produce comunque un precetto allora io qui mi chiedo mi sembra molto interessante perché Spinoza porta di fatto il problema del doppio rapporto tra percepire e tra la pura passività della percezione per così dire dell'immaginazione che non è poi solamente passiva proprio in seno alla conoscenza adeguata del Cristo ma mi rendo conto che forse detto in maniera un po' brutale però no 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 direi che anzi è molto interessante l'argomento allora questa distinzione tra insegnare e conoscere è una distinzione sulla quale ho insistito io perché appunto nel passaggio che ho citato del capitolo quinto lì viene detto appunto che Cristo insegna in quel modo non che conosce Dio in quel modo e quindi questo non basta per dire che Dio che Cristo ha il secondo genere di conoscenza ma che usa il secondo o può usare il secondo genere di conoscenza io il secondo genere di conoscenza Cristo lo usa quando diviene vicario di Dio secondo perché in fondo il secondo genere di conoscenza non ha mai perso un aspetto normativo questo è abbastanza chiaro mentre nelle parabole probabilmente è più coinvolto il primo genere di conoscenza certo il problema rimane in quale modo una conoscenza adeguata e questo l'ha detto bene lei possa esprimersi attraverso una modalità di conoscere inadeguata anche nell'insegnamento è questo quello che lei intende? Certo allora io non ho una risposta su questo però ripeto ciò che mi è parso di capire è che la questione funziona perché Cristo così come lo dice Spinoza nel traslogico politico in fonda è la bocca di Dio e siccome anche la stessa etica è secondo me scritta con il secondo genere di conoscenza non con il terzo questo significa che in qualche modo è possibile pensare accogliere in maniera diversa quindi non intuitivamente o perlomeno arrivare ad una condotta di vita che sia quanto più vicina possibile alla condotta di vita di chi conosce con il terzo genere pur non riuscendo ad accedere al terzo genere so che non è una risposta e so che non esco dalla contraddizione così però grazie perché continuerò a pensare grazie a lei secondo me sempre per stare nei temi visto che stiamo anche discutendo senza per forza avere le soluzioni però il punto qual è il punto è che la filosofia si distingue alla profezia appunto per il fatto che è comunicabile nel senso in cui mentre al profeta o si crede oppure non si ha nessun accesso in assenza di dimostrazioni al contenuto per cui o lo